Di solito squadra che vince non si cambia, ma una squadra che non vince è meglio cambiarla. Sono queste le parole di Matteo Salvini che il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, proprio non ha mandato giù. Caro Salvini, ha dichiarato il primo cittadino uscente, meglio non parlare di quello che non conosci. Al termine dell'era di Primio, nel sostenere la candidatura di Fabrizio Di Stefano, la parola d'ordine di Salvini è il rinnovamento. Ma il candidato sindaco della Lega proviene dal partito di Berlusconi e in veste di consigliere comunale ha sostenuto proprio l'amministrazione di Di Primio. Il sindaco ha ricordato dettagli che Chieti ha subito anche dal governo a trazione Lega 5 Stelle. Consiglio a Salvini, ha concluso il primo cittadino, di imparare meglio la lezione. Rimettere al centro, partendo, lo diceva il sindaco, anche da qualcosa che è fondamentale per chi vuole fare politica, e probabilmente negli ultimi anni è mancato. L'ascolto, l'ascolto. Non esiste un sindaco, un assessore che si chiude l'ufficio. Chieti deve tornare ad essere com'era, ha detto il leader della Lega in quello che sembra un vero e proprio attacco all'amministrazione uscente. Ma dal 1993, anno da cui il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, in 27 anni a Chieti ha governato la destra per 22 anni e il centro-sinistra per soli 5 anni con Francesco Ricci. Fratelli d'Italia, intanto, non ha ancora scelto il proprio candidato sindaco, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe finire a sostenere proprio Fabrizio Di Stefano, a cui alcuni cittadini recriminano di non essere proprio un teatino doc, ma un tollese. Nel frattempo, ieri sono saliti sul carro della Lega anche il presidente del Consiglio Comunale, Liberato Aceto, la consigliera comunale fedelissima di Di Primio, Nicoletta Di Biase, e l'assessore alle politiche sociali, Emilia De Matteo. Attualmente, quindi, il carroccio è il primo partito del Consiglio teatino. Continua a perdere pezzi Forza Italia. Il partito di Berlusconi è incaduta libera nei sondaggi e così vari esponenti locali, ad uno ad uno, stanno abbandonando la nave che affonda. L'assessore regionale forzista, Mauro Febbo, rivendica quella che era stata la sua proposta, ovvero di indire delle primarie all'interno del centro-destra teatino per scegliere il candidato sindaco. Ma per svolgere le primarie ormai non c'è più tempo e Forza Italia potrebbe annunciare anche un suo candidato. I candidati sbucano fuori in tutti i partiti del centro-destra e il tavolo romano, che normalmente poi, quando succedono queste cose, deve determinare il candidato, non si riunisca perché chiaramente ci sono di mezzo le regionali e ci sono problemi sull'individuazione del candidato della campagna e della Puglia. Quindi, se qualcuno avesse seguito il mio ragionamento, forse avremmo un unico candidato e saremmo già in campagna elettorale e magari puntare a prendere l'80%, visto le condizioni in cui si trova il centro-sinistra a Chieti.